Ciao a tutti, oggi vi racconto il duro lavoro che porta avanti un gruppo di uomini preparati e coraggiosi in nome e per conto della nostra amata Repubblica. Sto parlando del raggruppamento subacui ed incursori della Marina Militare, che rappresenta già dalla sua Costituzione il 15 febbraio 1960 con intitolazione alla memoria del maggiore del genere navale Teosiotesei una vera e propria eccellenza di carattere mondiale. A guidarmi in questa interessantissima vista conoscitiva c'è stato con me il capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l'ammiraglio Walter Girardelli, che devo dire considero un vero e proprio archivio storico multimediale ed un appassionato divulgatore delle innovazioni che sta portando avanti la Marina Militare italiana. Consubin è retto dall'ammiraglio di divisione Paolo Pezzutti, dal quale dipendono a cascata i diversi reparti. C'è il gruppo operativo incursori, il GOI, guidato dal capitano di vascello che costituisce l'unico reparto di forze speciali della Marina Militare, erede degli uomini dei mezzi di assalto della Marina. C'è il gruppo operativo subacui, il GOS, guidato dal capitano di fregata Gianfranco Stanislao Betrò, reparto alle cui dipendenze sono posti i palombari. Sono quegli operatori subacui con le capacità di immersione più spinte, frutto di una tradizione residente in Marina da oltre 160 anni. Il capitano di vascello Emilio Ratti comanda l'ufficio studi, il cuore pulsante dello sviluppo tecnologico dei materiali e dei mezzi utilizzati dagli uomini dei gruppi operativi. Il capitano di fregata Cerri si occupa invece del gruppo scuole, suddivise nelle scuole subacue, incursori e di medicina subacue di perbarica, che, oltre a selezionare e formare i nuovi palombari, incursori, medici ed infermieri, ha il compito di addestrare gli operatori subacui di tutte le forze armate e corpi di polizia dello Stato. C'è poi il gruppo navale speciale, alle cui dipendenze sono poste tre unità navali, Aneto, Pedretti e Marino, che sono state progettate per fornire il supporto subacueo al personale dei gruppi operativi e delle scuole di Consubin. C'è poi il quartier generale del raggruppamento, che assicura i servizi e il mantenimento dell'efficienza del comando al fine di consentire ai gruppi di assolvere la loro missione. Il gruppo incursori costituisce la componente di forze speciali della Marina Militare. Capacità, flessibilità e autonomia operativa e logistica fanno del GOI uno strumento di grande efficacia nella gestione di situazioni molto critiche. Gli attuali scenari di conflittualità internazionale e la continua minaccia terroristica richiedono l'intervento di piccole unità non convenzionali, particolarmente addestrate ed equipaggiate. Gli incursori della Marina costituiscono uno strumento agile e flessibile, particolarmente idoneo ad affrontare le sfide globali perché è in grado di proporre soluzioni straordinariamente concrete e di garantire al Paese un'ampia libertà d'azione con un impegno molto limitato. Gli incursori della Marina costituiscono uno strumento agile e flessibile, particolarmente idoneo ad affrontare le sfide globali perché è in grado di proporre soluzioni straordinariamente concrete e di garantire al Paese un'ampia libertà d'azione con un impegno molto limitato. Le loro capacità di soddisfare requisiti politici, militari, economici e psicologici, di operare anche in clandestinità o in condizioni di isolamento in piccolissime unità tattiche in contesti molto ostili utilizzando tutti i mezzi, gli equipaggiamenti e i sistemi d'arma necessari all'assolvimento della missione ne fanno un assetto strategico di primo piano. I compiti assegnati al GOI sono molto delicati, tecnicamente difficili e politicamente sensibili. Attacca di unità navali mercantili in porto con l'impiego di diversi sistemi d'arma, attacchi a installazioni portuali costiere e ad infrastrutturi civili e militari entro la fascia dei 40 km dalla costa, operazioni di controterrorismo navale per la liberazione di ostaggi su unità passeggeri o mercantili e su installazioni marittime, infiltrazioni e permanenze in territorio ostile per missioni di tipo informativo e di supporto alle operazioni navali. A questo scopo il personale è interamente professionista e l'addestramento è molto duro, selettivo ed approfondito, in modo da garantire elevati standard operativi. Di qui discendono le peculiari capacità individuali degli operatori che devono essere in grado di fornire prestazioni. Condotta di mezzi navali, assalto a unità navale in porto, rilascio da elicotteri, movimento a terra occulto notturno e diurno e superamento di pareti rocciose, fuoruscita in immersione da sottomarino, aviolancio con paracadute ad apertura automatica e comandata, impiego delle armi, degli esplosivi e delle cariche speciali, capacità di permanenza occulta su territorio avversario. Da decenni il GOI è costantemente chiamato in ogni situazione di crisi a svolgere i compiti più delicati e risolutivi di evidente valenza strategica, per rispondere in modo determinante a problemi operativi urgenti e con pericolosi risvolti politici. Dall'11 settembre ad oggi il GOI è stato impegnato in maniera sempre più preponderante anche nei principali teatri operativi terrestri e per il contrasto a fenomeni quali la pirateria in Oceano Indiano o il monitoraggio degli sviluppi di crisi regionali quali la Primavera Araba. Con oltre 165 anni di storia invece, la categoria Palombari è una delle più antiche della Marina Militare. Oggi questi uomini sono integrati nel gruppo operativo Subacquei. Per svolgere le diverse missioni che gli vengono affidate, il GOS ha alle sue dipendenze il reparto pronto impiego ed i nuclei SDI. Le missioni assegnate dalla Marina Militare al gruppo operativo Subacquei sono ad esempio condurre qualsiasi genere di intervento subacqueo, anche in alto fondale, fino a profondità superiori ai 1000 metri, soccorrere equipaggi dei sommergibili in difficoltà, mediante le apparecchiature subacquee di nave anteo ed un nucleo operativo chiamato SPAG, che ha la capacità di proiettare nell'area del sinistro marittimo, attraverso velivoli ad ala fissa o rotante, ben 10 operatori e di materiali necessari sia ad allestire un campo base galleggiante per il primo soccorso, sia a stabilire le comunicazioni con il sommergibile. C'è poi la capacità di effettuare la bonifica subacquea di qualsiasi ordigno esplosivo, convenzionale o improvvisato. Tale attività viene svolta quotidianamente con la neutralizzazione dei numerosissimi di residui bellici, che annualmente vengono rinvenuti nelle acque nazionali. Per le operazioni subacquee più complesse, il gruppo operativo subacquei si avvale delle unità navali raggruppate sotto il gruppo navale speciale, anch'esso alle dipendenze di Consubin, che ha il compito principale di fornire il supporto tecnico-logistico addestrativo ai gruppi operativi del raggruppamento, attraverso le tre unità navali alle proprie dipendenze, nave Anteo, nave Marino e nave Pedretti. Tale supporto, infatti, allarga notevolmente lo spettro di impiego dei palombari, permettendo loro di raggiungere, grazie all'utilizzo delle tecniche di immersione in intervento ed insaturazione, profondità operative oltre 250 metri, e di operare con apparecchiature e mezzi tecnologicamente avanzatissimi, come l'SRV300 e lo scafandolo rigido articolato EDS, che è una vera e propria sofisticatissima armatura che permette all'operatore al suo interno di muoversi sott'acqua fino a 300 metri di profondità, con dei propulsori come un astronauta fa nello spazio. Per le operazioni subacquee Nemed, i palombari sono addestrati ad impiegare una numerosa tipologia di veicoli filoguidati che permettono di investigare e recuperare oggetti dal fondo fino alla profondità di oltre 2000 metri. I palombari di Consubin sono impiegati sia in attività tutela dei beni archeologici subacquei, sia in complesse operazioni di protezione civile. Tali peculiarità rendono la componente subacquea un vero e proprio strumento dual use al servizio della collettività. Infatti il GOS è intervenuto nelle recenti emergenze del Costa Concordia e del crollo della Torre Piloti nel porto di Genova, ed ha prestato la propria opera in vari teatri internazionali. In Golfo Persico nel 1987, in Albania nel 98, nel mare arabico durante l'operazione Enduring Freedom 2001-2006 ed Antica Babilonia 2003, in Libano nel 2007, nelle missioni di antipiraterie in Oceano Indiano, dal 2007 e sono ancora in corso, ad Haiti nel 2010, in soccorso alla popolazione a seguito di un devastante terremoto nell'ambito dell'operazione White Crane, in Libia al termine del conflitto per recuperare dal fondo due unità navali libiche e ripristinare le banchine del porto di Tripoli 2011-2012, lo ricorderete tutti, nel centro del Mediterraneo conducendo attività di immersione in alto fondale nell'ambito delle operazioni connesse al flusso migratorio, in Sinai con una liquida di operatori a supporto del MFO, Multinational Force Offering, in Antartide a supporto delle attività di ricerca scientifica condotte dall'Enea. Voglio personalmente ringraziare tutti questi formidabili specialisti per il lavoro reso all'Italia e sto pensando insieme al mio staff a come valorizzare al meglio e al massimo tutte le loro imprese per aiutare soprattutto i cittadini a comprendere quanto sia importante per chi rischia ogni giorno la propria vita il sostegno di tutta la popolazione. Vi abbraccio e vi rimando alla prossima pillola informativa e vi chiedo un sostegno, vi chiedo la condivisione di questo video per aiutarmi in quella che ritengo una sana diffusione della cultura della difesa e della sicurezza nazionale. Ciao a tutti e a presto. Ciao a tutti.